Siamo qui con il professor Giulio Firpo in questa splendida ambientazione che è la Casa del Petrarca. Oggi ospitiamo una manifestazione molto importante perché è la giornata mondiale della poesia. L'Accademia in Petrarca ha consentito con grande piacere alla richiesta di ospitare questa giornata sia per l'importanza degli enti che l'hanno promossa, cioè l'Associazione Tagete e il Centro UNESCO di Arezzo, sia perché la poesia fa parte e svolge un ruolo di primo piano in una delle nostre tre classi storiche, cioè quella di lettere. Anche noi abbiamo organizzato, lo ricorderanno in molti, letture di poeti, letture carduciane, pascoliane, dantesche, petrarchesche. Quindi questa giornata viene a integrare un'attività che già svolgiamo da tempo. È stata istituita la giornata della poesia perché la poesia unisce gli uomini, li rende più concordi, li avvicina e li incoraggia al dialogo ed è in qualche modo propedeutica alla pace. Voi capite bene che il nostro Pascoli è a questo molto vicino. Lui aggiungeva che la poesia è buona.